Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero stiate bene. Oggi non vi parlo dalla mia cucina e dal mio salotto, ma purtroppo sono occupati tutte e due perché stiamo facendo dei lavori, per cui vi parlo dalla mia camera da letto e dal mio letto dove dietro ho tutte queste cartoline su tutti i viaggi dei posti in cui sono stato nel mondo. Vi faccio vedere, vedete? Ci sono tutte queste cartoline. Allora, come state? Spero stiate bene. Riprendiamo le nostre video lezioni, questa settimana saranno un po' di più, perché visto che appunto la didattica a distanza andrà avanti, saranno un po' di più. Vi invito, chi non l'ha ancora fatto, a iscriversi su Edmodo, così lo useremo come piattaforma per comunicare oltre ad Argo. Allora, vorrei introdurvi oggi fare una lezione di antologia. Avrete già fatto bene, anche molti di voi, i compiti, non li ho ancora corretti tutti, ma li sto guardando e a tempi brevi avrete anche tutte le mie risposte. Questa nuova tematica di antologia di cui avete già capito cos'è. Allora, vi spiego brevemente il nostro programma di antologia. Abbiamo visto dall'inizio dell'anno, prima con la professoressa Manganelli e poi con me, i generi, per cui ci siamo dedicati alla lettura per capire come i vari generi sono, come alcuni dei generi del racconto, anzi quali sono i vari generi del racconto. Abbiamo visto in primo luogo del racconto, normalmente fantastico, cioè con degli elementi non proprio reali. Abbiamo visto la fiaba, se vi ricordate, abbiamo visto la favola e l'avete visto con la professoressa. Con me avete visto la leggenda, abbiamo cercato di vedere le caratteristiche in particolare, noi ci siamo soffermati sulle leggende dei luoghi, vi ricordate, che mi sembravano interessanti e carine. Poi abbiamo visto invece il fantasy, in particolare abbiamo visto tre grande opere fantasy, abbiamo visto com'è il genere, com'è la funzione, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che il fantasy è il genere un po' più lungo, ci sono i romanzi, le saghe, ne abbiamo parlato abbondantemente, un genere che arriva anche al cinema. Abbiamo fatto anche la verifica su queste cose. Adesso queste video-lezioni le dedicheremo a due grandi tematiche. Cosa sono le tematiche? Le tematiche sono gli argomenti dei racconti, ragazzi. Dopo aver visto questi grandi generi, adesso vedremo due tematiche. Poi, l'ultima parte dell'antologia, spero di riuscire a fare in classe, sarà dedicata alla canzone e alla poesia. Quindi a altri due generi, però non generi di racconto, ma generi in versi. Avete imparato cosa è il verso, perché lo stiamo vedendo in epica, di generi più simili all'epica. Questo primo anno dell'antologia serve per capire tutti questi vari generi. Adesso però vediamo un attimo invece cos'è il tema di un racconto. Pagina 482 del libro di antologia. Allora, qualunque testo, ragazzi, parla di qualche cosa. Harry Potter, che ha una saga, parla di un bambino mago che va per sette anni alla scuola di magia e stragoneria di Hogwarts. Il signore degli anelli parla di un anello, eccetera, eccetera. Questa è la trama, notatevi questa parola, trama di un'opera. Però, l'opera può non solo parlare di una serie di argomenti che vanno uno dopo l'altro, quindi dei fatti, quindi la trama, ma può anche avere alcuni argomenti più grandi, diciamo, superiori, che, diciamo, servono per collegare i vari eventi che succedono in una trama e in una storia. Per esempio, in Harry Potter, fra i tantissimi temi che ci sono, c'è il tema dell'amicizia. Nel testo che abbiamo letto noi, il tema dell'amicizia è molto evidente. Vi ricordate la devastante partita a scacchi. Perché? Perché Ron è disposto a sacrificarsi per i suoi amici. Tema dell'amicizia è tema anche del sacrificio, ok? Capite che una tematica come quella dell'amicizia è presente tantissimo, in tantissime opere. È presente anche in Nessunni degli Anelli, Frodo e Sam, ne abbiamo parlato. È presente anche nelle cronache di Narnia. Aslan e Peter si creano un'amicizia. Non è proprio come le altre, ma, insomma, capite che la tematica dell'amicizia è presente in tantissime opere. Allora, come si fa a capire la tematica di un'opera? Innanzitutto, se la tematica è presente solo in una piccola parte dell'opera, magari non è molto importante. Sei presente sempre. Cioè, per esempio, un libro che racconta la storia di due amici, tutta la storia di due amici, la tematica dell'amicizia sarà una delle tematiche più importanti. In Harry Potter non è la più importante, ma è comunque importante. Non è di poco conto, cioè, conta qualcosa, perché c'è molto presente il rapporto Ferry-Ermione-Erona. È tantissimo presente. O anche, per esempio, fra alcuni amici adulti. Ok. Questa è la tematica, quindi. Un, o tema. Un, un argomento che va al di là degli eventi, degli avvenimenti, della storia, che serve per collegare la storia. Può essere presente la tematica davvero sia nelle poesie, che nei racconti, che in tutti i generi che abbiamo visto. Leggende, fiabe, eccetera, eccetera, eccetera. Molto spesso nelle fiabe, per esempio, la tematica è rappresentata dalla morale. Una tematica come quella del vizio, vi ricordate? Oppure come quella della furbizia? È presente in tantissime favole. Poi le tematiche sono in realtà poche. Ci sono dei grandi temi che si ripetono nella storia e nei vari periodi, nei vari racconti, nei film. Anche ci sono argomenti, temi, scusate, che si ripetono molto. Spero di avervi spiegato che cos'è un tema. Il primo tema che noi vediamo, anzi, che voi avete già incontrato nei racconti che avete letto, a pagina 482, io e gli altri, insieme. Vedete? Per conoscere il tema. Che cos'è il tema dello stare insieme agli altri? L'uomo, ragazzi, non è fatto per stare da solo, anche se purtroppo in questi giorni siamo quasi tutti da soli, perché o viviamo con le nostre famiglie, con i nostri genitori, con le nostre fidanzate, fidanzati, figli, nonni, eccetera. Però, a parte questo, oggi viviamo molto separati, perché questa cosa del coronavirus, lo Stato ci ha chiesto questo grande sforzo per contenere l'epidemia. Però l'uomo non è fatto per stare da solo, ok? È fatto per stare insieme agli altri. Cosa vuol dire stare insieme agli altri? Guardate il titolo. Io sono io e gli altri. Di volta in volta, a seconda dei contesti, gli altri cambiano. Per esempio, quando siamo in classe, io sono l'insegnante e voi siete i miei alunni. Nel caso invece in cui a parlare siete voi, uno di voi qualunque, per esempio, non so, Sofia, Sofia è io, e gli altri sono i suoi compagni e il professore, o i professori, o i bidelli, o le altre persone che sono presenti nella scuola, ok? Altro è tutto quello che non è io. Per poter esserci l'altro, ci devo essere io, ok? Io sono una cosa e poi ci sono gli altri. Io e gli altri non siamo separati, ma dobbiamo stare insieme. Vi ricordate il tema sulla classe che vi ho dato all'inizio dell'anno? C'era un po' questa tematica, c'era già un po' dietro. Vediamo un attimo alcune cose di questa tematica. Pagina 268, vi faccio sottolineare, scusate, volevo dire, ho sbagliato, pagina 482. Vi faccio sottolineare le cose più importanti. Guardate, quest'uomo che c'è nella colonna di sinistra è un filosofo greco, che si chiamava Aristotele, che è vissuto nel IV secolo a.C., per cui 2500 anni fa, tantissimi anni fa, e diceva che Aristotele definiva l'uomo un animale sociale. Cioè, cosa vuol dire? L'uomo un animale, perché fondamentalmente noi siamo animali, ma sociali. Cioè, naturalmente portato a vivere con gli altri, ok? Giuseppe Ortega y Gasset, un altro filosofo, filosofo non sono gli studiosi di filosofia, cos'è la filosofia? Lo studio del pensiero, eh? Un filosofo spagnolo del secolo scorso, quindi del 1900, disse che per vivere insieme ci vuole la volontà di farlo. Intendeva dire che per stare insieme in armonia è necessario l'impegno di tutti i membri del gruppo, e questo non è sempre scontato. Questo lo sapete anche voi. Non basta stare insieme, dobbiamo volerlo e venirci incontro, eh? Non è sempre facile vivere il requardo verde armonicamente in un gruppo, a causa dei caratteri diversi dei suoi membri, eh? Andiamo avanti. Cioè, cosa vuol dire? Che se abbiamo un carattere diverso ci scontriamo e litighiamo, e questo non è una cosa positiva per vivere insieme. Alcune scuole italiane, andate verso la fine, hanno istituito dei consigli di cooperazione, cioè delle piccole assemblee, riunioni, in cui i ragazzi affrontano i problemi che hanno nelle loro relazioni e cercano insieme di risolverli. Cosa vuol dire? Queste cose servono per stare insieme, eh? Per stare insieme e non per litigare. Per stare insieme in modo sereno, in modo bello e positivo. Guardate il requadro azzurro. In certe culture, cioè in certi popoli, l'ingresso in una comunità è segnato da un rete di iniziazione. Cosa vuol dire ingresso in una comunità? Un gruppo di persone, formato da io e gli altri, è una comunità. È un insieme. La classe è una comunità, formata da studenti e dai professori. La scuola è una grande comunità, formata da tutte le classi, insieme a tutti i bidelli, tutti i professori. La famiglia è una piccola comunità. Il papà, la mamma, il nonno, lo zio, il nipote, il figlio, la figlia, eccetera. Un paese, Siziano, è un'altra comunità, formata da tante famiglie. Le comunità possono essere piccole, possono essere grandi. In alcune società c'era un rete di iniziazione. Cosa vuol dire? Quando uno entra in una società, la società dice tu da oggi sei entrato. Una specie di benvenuto. Nella nostra società non esiste un vero e proprio rete di iniziazione. L'unico che non fanno per tutti è il battesimo. Cioè, chi va in chiesa riceve il battesimo e ci dice ti chiami Pinco Palla, ci dà l'acqua sulla testa, chi di voi è battezzato lo sa, non so quanti di voi sono battezzati. In qualche modo si dà il benvenuto a questa persona e alla comunità cristiana. Ovviamente lo fanno i cristiani, i non cristiani non fanno il battesimo. Altri riti di iniziazione, cioè di inizio alla società, noi non ne abbiamo. Ma ci sono tante società dove ci sono tantissimi riti. Vediamo per esempio vediamo per esempio questo raccontino. È nato in questo modo, cioè come rito di iniziazione, il badgy jumping. Vediamo che cos'è. Uno sport estremo, estremo vuol dire molto rischioso, che origina in un'isola, vabbè, non importa qua, nell'oceano Pacifico. Che in originale questo sport si chiama Nangol, un salto da una torre di legno, alta 30 metri, fatta dagli adolescenti, legate per i piedi a due liane. Vedete? Tenuti a una corda. Superando questa prova, i ragazzi possono essere considerati membri della comunità. Cosa vuol dire? Che arrivano al momento in cui devono dimostrare di essere adulti. Se hanno paura e non fanno questa cosa, la comunità li rifiuta e gli dice no, siete ancora immaturi. Noi oggi abbiamo questi tipi di riti di iniziazione. Per esempio uno all'esame di terza media. Se uno viene bocciato all'esame di terza media perché non è ancora maturo. La maturità all'esame di quinta superiore è un altro rito di iniziazione non obbligatorio. Invece per esempio la laurea all'università è un rito di iniziazione non obbligatorio. Diciamo che sono meno pericolosi che fare il badgy jumping. Ovviamente. Perché sono importanti questi riti di iniziazione? Perché sono legati legati allo stare insieme agli altri. Io vengo accolto da una comunità ci sono io, ci sono gli altri, siamo una comunità e insieme appunto abbiamo un rito di iniziazione la comunità ci dà un rito di iniziazione che ci fa sentire parte di questa comunità. Giriamo la pagina e andiamo a pagina 483. Comunità, io e gli altri servono per superare i problemi. Vedete, i problemi si superano più facilmente grazie all'unione e alla condivisione delle difficoltà. Con quest'ottica, cioè con questa mentalità nel 2006 molti giovani pazienti dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano quindi persone ammalate adolescenti, giovani, quindi della vostra età o poco più vecchi obbligate a vivere in ospedale per i loro problemi hanno scritto e cantato Palle di Natale una canzone vedete che si è diffusa tramite un video che ha visualizzato da oltre un milione e mezzo di persone. Cosa hanno fatto? Si sono messi insieme e hanno raccolto fondi cioè il video ha incassato talmente tanti soldi che sono arrivati dei soldi all'ospedale per migliorare le macchine migliorare i letti fare delle nuove ricerche delle nuove cure ok? Questo è un esempio di condivisione delle difficoltà cioè persone che condividono la stessa difficoltà come appunto per esempio l'essere ricoverati in ospedale pensiamo a quello che sta succedendo adesso uniti uniti e non separati ma uniti riescono a fare qualcosa di bello quindi io e gli altri anche nella difficoltà è un qualcosa di bello e di positivo andiamo nel riguardo successivo l'animale come l'uomo ha istinti egoistici cioè ha degli istinti per cui uno vuole sopravvivere per cui cerca di procurarsi del cibo di difendersi eccetera ma sa che vivere insieme è vantaggioso lo sanno anche gli animali perché ciascun membro della comunità ha un compito preciso e utile alla collettività cioè utile per tutti l'ape per esempio vedete vivi in una struttura sociale che prevede l'esistenza di tre ruoli nella sua organizzazione sociale dell'ape che non è un animale come noi non ha costruito le case l'ape ovviamente ha gli alveari basta non ha le vie non ha le strade non ha le chiese non ha i monumenti non ha i libri non ha la scuola l'ape ovviamente tre tipi di api la regina che è l'unica che si può riprodurre i fuchi che fecondano le uove e le operaie che sono tutte quelle che invece mantengono l'alveare ecco glonnetone polline eccetera eccetera ognuno ha il suo compito anche per gli animali questa cosa qui vale ovviamente anche per noi diciamo per noi uomini come si dice per noi uomini vediamo l'ultimo l'ultimo riquadro nel corso del 2016 un milione di bambini delle scuole italiane è partecipato a un progetto educativo lasciamo stare cosa volto a realizzare insieme oltre duemila libri cosa vuol dire si mettono insieme scrivono i libri li fanno li copiano li creano li inventano delle storie come facciamo noi con il giornale di classe i prodotti sono stati consegnati a 17 punti luce insomma in luoghi adesso lasciamo stare nel dettaglio non è importante che ve lo ricordiate in luoghi in cui delle città italiane vedete in quartiere svantaggiati per esempio cosa sono i quartiere svantaggiati sono i luoghi dove magari le persone non possono comprare un libro perché non hanno i soldi per farlo allora i soldi li fanno loro magari inventano delle storie o magari prendono dei libri copiano stampano dei libri di altri copiano inventano delle cose così per diffondere opportunità e speranza ai ragazzi che vivono a rischio di povertà in Italia vedete questi libri sono creati da bambini per bambini e sono parte di un circolo virtuoso cos'è un circolo virtuoso il circolo è un cerchio no? è qualcosa che se uno fa del bene fa del bene all'altro l'altro fa del bene all'altro e nel circolo si crea il bene condiviso volto a conoscere meglio l'altro ovviamente il libro è indirezzato per l'altro non è indirezzato semplicemente per noi stessi è un esempio di cooperazione cioè un esempio positivo per stare insieme uno con l'altro allora voi avreste dovuto leggere se non ricordo male diversi racconti che sono pronta per la prima media a pagina 484 poi chi sarà Zora e poi Loris in pentola questi tre racconti sono tre racconti diversi in cui la tematica di io e gli altri viene affrontato in modo molto diverso allora io vi chiedo un compito adesso vi chiedo di vabbè ve lo scrivo ve lo scrivo nel 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 foglio che vi do il compito sarà su un racconto su un altro racconto io e gli altri che è il giovane gambero a pagina 500 scritto da Gianni Rodari che è un grandissimo racconto un grandissimo scusate autore di racconti e di poesia molto importante in Italia Gianni Rodari ha scritto questo racconto che parla di questo tema io vorrei che ragionaste su in che modo cioè quali elementi di questo tema sono presenti in questo racconto vi darò l'esercizio da fare così poi me lo fate e me lo mandate invito tutti i vostri compagni che non sono ancora scritti su Edmodo a farlo e a mandarmi tutti gli altri compiti perché tanti di voi non mi hanno ancora mandato i compiti mi raccomando ragazzi fate le attività a distanza se no poi quando tornerete non vi ricorderete più nulla e non sarete più capaci di fare niente e questo sarà un grosso grosso problema va bene mi raccomando io vi sono vicino potete scrivermi quando volete su Edmodo via mail non vi preoccupate fate come credete meglio Edmodo è il canale diciamo ufficiale va bene vi saluto e vi mando un grandissimo abbraccio a tutti